Scatman's World La qualifica l'ho fatta il giorno prima E siamo con il buon Giovinazzi Spacchiamo il culo a tutti Vai Gran Premio Vai raga Vai ragazzuoli Andiamo E si parte Troppo la qualificazione è un po' difficile Questa qua in Cina Attenzione alle McLaren Siamo già ottavi Grandissima Partenza cumendiana Attenzione Piccola sbavatura Ok Dai che ci siamo Abbiamo con Settimo posto Ma siamo partiti Veramente Veramente bene Non è prevista pioggia Per la gara odierna Merda 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 Aspettiamo Di non avere più le manor Qua siamo a caccia Della forza india rosa Del buono con Safety car intanto Questo può essere un problema Che forse con le due Con le due macchine ferme Può dare la safety car Parecchie volte all'inizio Purtroppo sono le falle della mod Purtroppo non ho trovato una mod Dove Come si dice Dove non sparivano le manor Pazienza Accettiamolo con amore E passione E' pur sempre una mod fatta Penso in maniera molto molto veloce Ci ribecchiamo dopo la safety car Penso sia per quello stavolta Non sono successi altri problemi Quindi Presumo che sia quello Diciamo che a volte capiterà A volte no Stavolta è capitato Di partire Siamo prontissimi Adesso vediamo se riusciamo a superare subito Con Che Alcuna dei box Comunque Dai ragazzi Dai 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 che siamo pronti Miscela Green flag Ho sbagliato Attenzione intanto fuori Ericsson Primo ritiro Noo lunghissimo Con le gomme Fred Errore spaventoso Uh che brutto erro Questo è un errore Inaccettabile Ho perso completamente La Sauber Eh vabbè Errore Abbastanza Fastidioso La possiamo recuperare Dai Alfonso Anche le gomme Diciamo Con la mescola Più dura Quindi lo possiamo Prendere Ma errore Che non ci voleva Ben sorpasso Su Alfonso Ok Ottimo sorpasso C'è Kimi Raikkonen Davanti Allora si è ritirato Il nostro compagno Di squadra Ericsson Ok Hanno rimosso La vettura Di Ericsson No Non va Dei box Assolutamente Aspetto Vai Cumendone Vai Cumendone Intanto Il primo Vai Box Ah è Ericsson Secondo Cazzo Adesso mi sono reso conto Molto bene Bravo Cum Yellow flag Intanto Mi sono reso conto anche per Seb secondo ritiro diciamo ufficiale ritiro per Seb perché richiamo che le due minor vanno fuori subito perché non sono presenti nella stagione F1 2017 altro ritiro per la Ferrari di Seb facciamo fare i più giri possibili come si dice ritardare una sosta quello è l'obiettivo cioè fare solo tre soste attenzione intanto Chiatt che è una macchina migliore ci supera ci riprova e risupera Chiatt molto bene attenzione però vado fuori dalla pista devo stare molto attenti è un po' lungo anche qua eh le gomme sono messe male ragazzi dai 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 ritorniamo primi ma ragazzi che fatica una grossa grossa fatica box di slap ok sostona per il cume noi mi consiglio keep current mi sono un po' deconcentrato qua la porca troia attento cumendino ok dai che ci siamo andiamo con le medium noi rischiamo le medium attenzione a sandwich I have power to the sandwich e ritorno a sandwich uh brutto errore del cume brutto errore del cume catroia non un grandissimo non una grandissima cosa questa vabbè per fortuna non è successo niente però ho rischiato grosso ok box per il cume e adesso vediamo con le medium sarà dura eh abbiamo vandorn che ha le super soft ha messo vandorn ha molta stoffe il vandorn eh vandorn nella realtà sta soffrendo molto una mcclaren impietosa proprio brutto vedere una mcclaren così devo portare un po' in temperatura le gomme dai giovi che siamo tutti pazzi per il giovi siamo tutti pazzi per il giovi siamo tutti decresi per il buon giovi ok miscela standard che è meglio siamo quattordicesimi facciamo un po' di gente vai box tempo nuvoloso ma non è prevista pioggia ragazzi occio un po' lungo eh niente la Sauber non è la Ferrari come tenuta attenzione quasi un contro mamma mia mamma mia mi è distratta sta roba non ci credo mamma mia che bordata Hamilton dodicesimo comunque gigi in difficoltà gigione in difficoltà sbavatura che per il cume che non stiamo guidando benissimo questa Sauber rispetto alla Ferrari dopo tutta un'altra macchina fuori Kevin Magnussen ritiro per Magnussen ritiro per Kevin Magnussen terzo ritiro siamo al nono posto mamma mia anche Magnussen fuori dai cazzo fammi andare fammi andare ok siamo in ottava posizione molto bene mi butta ho sentito un contatto Dio Cristo maledetto Chiat eh mi supera anche il Gigi vaffanculo vaffanculo però maledetto Chiat sempre il solito guarda guarda Chiat per poco becca anche Gigi impressionante raga impressionante questo Chiat mancano 18 giri è veramente un Chiat molto vergognoso bisogna superare Chiat a tutti i costi adesso me lo supero ciao Chiat eh Gigi purtroppo no perché Gigi è superiore anche una mescola migliore quindi Gigi è impensabile però siamo settimi e la cosa mi piace molto l'importante è fare punticini almeno un podio però mi piacerebbe almeno un podio quindi l'obiettivo almeno un podio in questa stagione con il mitico Giovinazzi anche Chiata la mescola migliore ma posso stare davanti al russo posso credo guidare così i puliti ok molto bene molto bene ragazzi siamo arrivati alla fine di queste gomme siamo in 16 si è ritirato anche Pippo Massa quarto ritiro siamo terzi chiaramente ci supereranno in parecchi però ho fatto il massimo possibile adesso andiamo a mettere le soft ok adesso vediamo quante posizioni perdo spero di liberare comunque in zona punti dai 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 5 6 7 8 forse ottavo ottavo posto con una mescola migliore però rispetto a con vediamo vediamo se è possibile se è possibile fare il miracolo e arrivare almeno settimi miscela ricca in realtà ne ho tanti vicino vediamo se riusciamo a fare qualcosa di bello qualcosa di grande qualcosa di epico il kumea caccia botas comunque a 52 secondi valteri complimenti a valteri complimenti a valteri dai ragazzuoli dai ciò sarebbe una safety cara adesso quello si sarebbe veramente una bella cosa comunque il kumea caccia sono tutti molto vicini sono tutti molto vicini altro giro completato che la force india è migliore rispetto alla sauber purtroppo non mi sembra di guadagnare molto 3 secondi e 9 da ocon 4 secondi praticamente dai ragazzi dai noi riusciamo proprio a recuperare non c'è il passo non c'è il passo purtroppo non c'è questo fottutissimo passo dai un incidente davanti qualche un po' di bagarre manto grogian si fa superare da ocon vediamo quanti secondi 3 4 recuperato 4 decimi ma non bastano devo recuperare molto di più qua vado largo non mi sta piacendo non mi sta piacendo questo passo dai dai se ne prendo uno li prendo tutti praticamente ho perso due decimi non va bene non va bene ho dei punti dove recuperi altri dove perdo questa è la fottutissima realtà dai cazzo dai addio mio niente c'è niente da fare ok hanno risolto il problema di raikon da quello che ho capito quindi vuole che raikon aveva un problema non ne sono neanche accorto quindi raikon il problema gira molto più veloce di me bene non riusciamo a rosicchiare purtroppo non si rosicchia 3 3 niente da fare il ritmo purtroppo è questo anche con la mescola migliore questo fa un po' male ma accettiamolo adesso li vedo un po' più vicini crediamoci come tu puoi tutto tu sei il creatore di tutto le mie gomme sono messe benissimo strategia perfetta il problema è che loro ne hanno di più sicuramente li vedo più vicini questo è poco ma sicuro ma manca troppo poco dai 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 2 9 abbiamo recuperato molto in questa gira 2 9 questo è un buon recupero nostri errori dai dai comandissimo dai comandissimo se ne prendo uno ne prendo tre qua perdo ho perso qualcosa ho perso un decimo questo è un punto dove mi sembra che riesco a recuperare il cume è realmente a caccia questa potevo prendere decisamente meglio mentre a fare siamo sempre a questa distanza e tra poco devo anche abbassare i giri del motore niente niente la speranza di recuperare qualche altra posizione è andata ormai probabilmente ho anche perso in questo giro infatti ho perso in questo giro infatti ho perso parecchio 3 5 7 7 8 10 mi ho perso basta le speranze le speranze sono andate con la gomma con la mescola più morbida ho fallito l'aggancio non me l'aspettavo sinceramente anche questo è il bello della formula 1 delle stagioni comendiane basta non ci credo più onestamente stiamo su Michelle a Standard e fanculo ormai sta per iniziare l'ultimo giro il final lap dai vogliamo il ritiro di tre macchine davanti dai ok inizia l'ultimo giro final lap final lap comendiano il mitico final lap ok 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 niente qua non ci sono proprio riuscito vince Valtteri Bottas ha già finito Bottas vince Valtteri complimenti a lui grande Bottas de culos ai 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 uuuh mamma mia noi finiamo Ottavio ancora qualche punticino per noi non male però l'obiettivo è almeno un pod ragazzi un pod lo voglio conquistare col Giovi giro record di Gigi e noi chiudiamo Ottavi buon Ottavo posto che fa morale very good guarda Toto eccoci qua andiamo a vedere la classifica allora piloti Hamilton in testa Bottas ha recuperato bene dopo due ritiri addirittura per Bottas perché aveva 25 punti noi siamo Ottavi a 13 punti molto bene la costruttori settimi perfetto raga un saluto al commentone veneziano ciuuu